Siamo con mister Manoni dopo la sconfitta della Samb qui a Notaresco. Allora mister, un primo tempo a basso ritmo in cui la squadra sembrava voler cercare l'imbeccata a tutti i costi in area che è una tattica poco produttiva con una squadra fisica come il Notaresco. Ma il primo tempo forse, ripeto, non siamo stati brillantissimi soprattutto nell'idea. Nell'idea, però la squadra comunque tutto sommato è stata bene in campo. Abbiamo subito un paio di cross dove l'episodio ci ha condannato. Dobbiamo limare queste situazioni. Il secondo tempo comunque la squadra ha avuto una reazione importante, dato anche il risultato. Penso che è stato un secondo tempo, non dico a senso unico, però comunque sia dove abbiamo avuto il pallino anche del gioco, del campo. Ci è mancato l'episodio che magari forse oggi al Notaresco ha avuto. Sull'episodio del gol del Notaresco forse è mancato un po' con Son oggi. Ma guarda, noi siamo, penso, una rosa di alto valore in tutti gli effettivi. Quindi dobbiamo superire all'assenza di uno e dell'altro perché comunque sia in questa situazione, io lo dico ragazzi, sono tutti estremamente importanti. Non ci possiamo fermare se un giorno manca uno o un giorno manca un altro. Dobbiamo andare uniti verso il nostro obiettivo che è quello di tirarci fuori il prima possibile a questa situazione. Grazie mister. Prego.